Sì. Ok. Allora amici di Spazio Wrestling, abbiamo degli amici? No, allora, sconti un attimo. Guarda cosa mi hanno mandato a me. No, perché a te? C'è scritto Michele Posa e Luca Franchini. Come Luca Franchini? E già percurrato, già mi stai sui maroni perché... Ma no, a Michele Posa che dara qualcosa. No, no, no. Allora, apriamo sto cazzo di pacco. Lo prendi, le parolacce. Apriamo su questo cinciri lì. Anche la dai, cioè, dai. Ecco, adesso servono le forbici, vedi? Che foda. Il fatto tra l'altro è anche pesantissimo. Cioè, è un regalo straordinario. Io non ce ne ho neanche le chiavi. No, niente. E quindi, con che cavolo lo apriamo? No, lo so. Ah, sono arrivato le chiavi. Basta chiedere. Speriamo ci siano dei finecchi. Non ho neanche detto la roba da mangiare, sento lo profumo. Come fai a dirlo? Non lo so. È come... Ma è un pacco regalo. Ma che capro è? Ma secondo me è uno scherzo. Non c'è dentro niente. Allora, apriamo. Tu prende la parte... Marola, quanto è pesante. Aspetta, c'è che ti aiuto. C'è scritto Buon Natale. Allora, dividiamo le parti uguali. Io questa e tu questa. Va bene? Dividiamolo addosso al nostro cameraman. Quanta roba è? Ma sei amico del Conte Dracula? Tu la prendi. Ma guarda, non ce ne ho neanche. Allora. Ciao, sediamoci bene. Dai, facciamo le cose da bravi bambini. Ah, bisogna fare proprio... No, ma... Le magliette del sito. Allora, tu le magliette, la cacciotta. Abbiamo... Aspetta, com'è la cacciotta? Aspetta, aspetta, buono lì. No, una cacciotta testa. Ma guarda... Allora, Peccurrado ti conosce. Quante grosse. E ha fatto tutto... Guarda. Tutto doppio. Tutto doppio. I pasticcini. Le susumelle miste. Mamma mia, che buono. Poi abbiamo il peperoncino. Peperoncino Inter. Che com'è? Cos'è? Interi, Frank. Interi. Il peperoncino Inter. L'anduia. Mia. Anduia calabrese. L'anduia da Calabria. Sai cosa è l'anduia? È tipo il merluzzo di Santuzzo, no? Sì, certo. Vabbè. Poi abbiamo... No, io vado su queste robe qua. Cos'è? Una torta di... Arac da tutta... Di polvo di mare. Di polvo di mare. E poi abbiamo anche... Il tonno... Calippo! Il prefetto di Frank. Calippo! Quella sera c'è, mi faccio calippo e... Va bene. Allora, grassi e tattura... Aspetta, fai vedere le magliette, ma... Allora, le magliette. Io quella blu. No. Quella blu. Ma XL? E quella cos'è? XL? Ma a me non piace la torta. Facciamo del tuo, ha freddo io. Per una volta... Questo non lo vuoi, il tonno. Io ce l'ho, il tonno. Allora è mio. Non lasciare in giro i tuoi calippi, Frank. Allora, grazie a Spazio Wrestling. Grazie a Spazio Wrestling. Grazie a... No, fanno bene. Grazie a Spazio Wrestling. Se anche voi volete un saluto da parte delle consiglie del vallo, mandateci la roba da mangiare. Mamma mia. Che bontà. Ciao.